Ciao a tutti, allora questo è un video per annunciare il giveaway che c'è sul mio blog è un giveaway che è aperto da oggi, che è giovedì 8 settembre e il premio in palio è uno smalto di Chanel che fa parte della nuova collezione che avevo recensito nei precedenti video che si chiama Illusion d'Ombre, è la collezione uscita adesso lo smalto in palio è il numero 529 Graffite questo qui, che è un bellissimo colore, ve l'avevo già mostrato vi metterò magari il link della recensione e appunto questo è il premio di questo giveaway ecco ovviamente lo smalto che vi arriverà a casa sarà nuovo, completamente sigillato perché appunto avendo già fatto la recensione vi mostro, questo qui è il mio e questo che è ovviamente nuovo e sigillato è lo Chanel che è in palio per questo giveaway infatti apro la scatola e vedete qui c'è un altro Chanel Graffite il giveaway si svolge sul mio blog quindi per partecipare dovete semplicemente lasciare un commento un solo commento sotto all'articolo del mio blog vi metto ovviamente il link nel box informazioni quindi disattiverò i commenti qui sotto per non creare confusione non dovete lasciare un commento sotto a questo video ma dovete andare al link che trovate qui sotto è un giveaway appunto che si svolge sul blog quindi chiunque può partecipare, è aperto a tutti ricordatevi però di lasciare un solo commento perché più commenti non verranno ritenuti validi ovviamente l'estrazione sarà random, casuale verrà scelto un commento a caso il giveaway si chiuderà alla mezzanotte di lunedì 12 settembre spero che partecipiate in tanti e niente ci vediamo sul mio blog ciao